Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Tech It Coltubo Allora In questo episodio Andiamo a vedere come gestiamo Possiamo che cosa ci fanno queste cose lì Come possiamo gestire il Il What the fap Una torta di bentornato di ringraziamento per aver ricidato l'energia eterna dopo Ma io non l'ho fatto apposta dai Che sei serio Nica l'ho fatta apposta Bella torta mi piace la torta così Torta con fango Forse dove scendere Dove scendere per terra Ah salire sulla terra Ecco mi sta contagiando Fappone Allora Io voglio fare in modo che Prendiamo un bottone Me l'aveva ridata la torcia No me l'aveva ridata anche il fappone Allora brass Come si fa il brass Eh mo vediamo Non ci vedo Detro illuminiamo la testiera Brass È crashato il gioco Ok Vi eccoci Allora mi serve Del Del tin E del ferro Cioè del tin E del copper Direi che possiamo utilizzare la nostra Eh possiamo utilizzare un corno Come faccio io 52 dovrebbe darmi il copper No Manco per niente 64 Perfetto Perfetto Molto bene Io voglio evitare di andare a casa ma Il brass almeno Ah Guarda me la dimentico Se non questa cosa Un MC No Però non la cliccherò Per sicurezza Guarda per sicurezza Non la clicco più con la cosa Non mi piace È una fappona Ponzicoponzicoponzicopo Ancora qui sta cosa Ah ma ti devi dai Gabazzisi Allora prendiamo Questi Qua c'è tanta roba Che veramente Voglio utilizzare bene Sai che ti dico Prima ci mettiamo a posto Ci portiamo dietro Tutto ciò Che devo portarmi Prendiamo la nostra Electric cosa La mettiamo in Eh come si faceva V C B N M Cacchio ne so Z X Porco E demonio F R E No Affondata G T Y G O P U L K U Y Cacchio ne so Questa si può metterla in modalità Ah controlli Che Chi se ne frega del linguaggio Controlli Allora Vediamo Eh boost Non mi interessa Charge item Toggle active Extra function C forse L'electric branch Ah shift tasto destro Shift tasto sinistro Control tasto destro Shift control Oddio Alt tasto destro Che cacchio ne so Q Q Eh vaffangala Z X Ok vanno a dire sulla U Ok la U che dice M tasto destro Vaffanculo Allora Uno Due Tre Questo Vabbè facciamo in caso Che ne sai Eh Questa moce ha tutta l'energia dentro Però il faffone Vabbè Chi se ne frega Lo posso recuperare o lo posso rubare agli tenorloco Preferirei La seconda Che cos'è questo Mi è caduto No non dimmi che me lo fa recuperare No 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 Senti Non è come funziona Bene Era solo un bug Per fortuna Ma perché mi incalzavo Dei su serio Questo dei su serio Però è rotto sulla Dei su serio Ah Faffone Allora La batbox L'avevo già presa Infatti Ma non mi interessa più la batbox Vero? Forse no Ora devo solo prendere questi Se faccio così faccio prima Sì Non sto nemmeno a consumare così tanta energia Prendi Tutto Questo rimane più bellezza World Anchor Tu vieni con me Ci portiamo anche I tre Collector Sì Non mi importa l'energia Tanto loro la rubiamo Agli Eternal Love E Per ora penso Posso abbastare Facciamo Piccoli Trasportini Alla volta E su La Lausa La sposteremo poi In futuro Cosa vai che ti dica Sono un amante Della Finite voi la frase Nei commenti Mi raccomando Qua Nooo Volevo centrarlo Adesso il server Pieno Ok basta Adesso il server Adesso il server Un po' Tutti i gabbi Sì Allora Qui la mettiamo Così Perché qui c'è un relay Prima o poi Allora Electric Fornas Maceratore Electric Fornas Questo è l'estrattore Servirà un compressore Prima o poi Questo è il maceratore Molto bene Se scavo qui dietro Bene Perché a qualche parte Bisognerà metterci Li capi Quindi questa Va in Transmutation Mode Non è in Transmutation Mode Bravo Così mi piace di più Mfe Mfe Lo si mette L'Mfe Lo si mette Beh Lo si potrebbe mettere Anche in maniera Molto Molto fapposa Della serie Uno cerca di Fare fappate E l'Mfe L'Mfe Lo si piazza così Questa è l'output Quello è l'input Ci si prende i cavetti d'oro Con l'elette Con l'elette Si deve affangare Di transformer Che non vorrei mai Fa scoppiare Eh no Aveva uno più indietro Sono soppone Ciao No Dei quasi quasi Mi hai visto in palico Quasi quasi Ciao Come ti banchi Come ti banchi Te non si bugga a nessuno Dei mi stai simpatico Fangara Dei Fortunissima Fortunissima Allora Se metto questo Verso l'alto E questo Verso il basso Eh Gli input Lo do da lì Da qua Facciamo uscire i cavetti Siamo tutti contenti Si spera Qua ci possiamo Le cose che non ci servono L'ancora La si piazzica Oddio Ma come Si Cosa mi ha contagiato Qui come comodino Che almeno salviamo in chunk Eh Cos'altro Cos'altro Eh i watermil Per l'energia Eh i watermil Per l'energia No Ma so Cazzi Allora Contiamo quanti blocchi sono Dei Vabbè Basta andare fino alla fine Vola Con tanto fiatto in gola Finchè non si innamora Che cacchio sta a fare Questo Ragno Oddio Darkimgeon the game Hola Dov'è la mia cosa? E' qui Dunque io potrei farla anche Tipo No Intanto piazziamo un po' di torce Che i mob che spawnano nelle gaverne Sono dei mob cattivi Quelli che spawnano in superficie Sono dei mob buoni Cioè un mob che spona In genere Fa cagare Però in generale Secondo me Ora io Come li faccio Sti maledetti Cosetti Dovrei fare qualcosa di serio Della serie La faccio serie a seria Come l'ho fatta di là E collego il tutto Ma non qui Ma qui Perché questo sarebbe Un output Io voglio invece l'input Questa è la batbox Ma la batbox Non ci interessa manco per niente 24 24 di sti cosi La prima cosa Posizioniamo Allora 24 diviso 4 Quanto fa? 6 Giusto 6 Quindi posizioniamo 6 cavi 1 2 3 4 5 Vabbè andiamo 1 in giù Allora Ora invece Cerchiamo di posizionare Tutti sti cosi Allora 1 2 3 4 5 6 Idem Con patate Anche di qui 1 2 3 4 5 6 Ora Facciamo per farci qualcosa Anche di qui Però Della serie Chi è che mi colpisce Che lo massacro di botte Ma sei proprio un frocetto Di fattelo dire Ma dove stai Tu devi solo morire Immazzato Che cacchio ti sei Oddio Dove Dove sei bugato No 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 Dove sei bugato questo No no Cioè Mettiamoci più torce possibili Qua non ci deve spawnare Manco un Manco Una ragnatela Allestato il game Interessante Quindi in generale Io voglio farlo salire in qualche modo Non così Ma così Così Perfetto Ora il problema È per l'appunto Riuscire a mettersi qua dentro Allora ok Questo deve essere libero Questo deve essere libero a sua volta Qua ci deve essere Ci deve essere libertà di parola E anche altro In generale libertà di parola Qui ci deve essere acqua Proprio acqua Proprio di brutto Che deve essere Proprio spaventato Dall'acqua che ci sta Vannaggia A te E a lui Tutte e tre Così Ora creiamoci un contorno A sta cosetta No Con la marble Ma sì Che te fregate Allora Sono un due Tre Cat sink E se Un due Tre Uno Sono un due Tre Uno Eh Poi sarebbe un due Tre anche di qua Però Uno Un due Tre No Bisogna bloccare St'acqua Molto Meglio Ora Si fa sto Un due Tre Maledetto Grazie Un due Un due Tre Qua Un altro Così Così va bene No Questo no Ci deve essere vuoto Deve essere questo Il layer Mannaggia Che fappone Non potevo Dimelo prima Così Tu devi solo morire Non è capita questa storia No Le cosette Non le voglio Morte a te E tutti Un pogno Che vuoi dire? Non lo so Che frega me Però mi piace questo buco artistico Ah In questa direzione c'era anche la casa di Luke E c'era il super buco No No Sono Tre Sei Quindi Teoricamente così Va bene Ora bisogna Impostarlo Nella serie Vola Con tanto piatto in gola Finché non si innamora Che non era così il testo Ma io me lo invento Perché sono surreale E quindi Posso Non è vero Quindi Se qui noi ci mettiamo l'acqua Non è vero Non possiamo ancora Ma se qui ora ci mettiamo l'acqua Ma faffangala Tu sta grave Schifosa lurida Ti voglio bene anch'io No Qua ci va un buchetto Controlliamo Quindi se noi mettiamo l'acqua qui Ora dovrebbe fungere Dovrebbe Ora per comodità Cerchiamo di salire Faremo un buchicino Qui Viso per comodità eh Ora ci troviamo un secchiello Bravo il mio secchiello Ce lo duplichiamo Perché non vuole Prendere dell'acqua Anche se Ne ho tipo Tanta No sono scemo io No non rispondete alla domanda So che direste di si Tapponi come siete Prendiamo 3D Una fonte d'acqua Una fonte d'acqua è finita Però cioè me la farei Me la farei Eh dove la farei Qui sotto No non lì sotto No non lì sotto No non lì sotto però Fapponi Mettiamo Eh anche qua però ci vanno I stone brick Mettiamo uno qui Uno qui E qui abbiamo una fonte infinita Dei quanto è bella sta cosa Mi piace Ah oh Mi piace Ora Cerchiamoci Di metterci d'accordo qua Che lascia sta Se no Vediamo Inizia a prendere energia Alleluia Inizia a prendere energia Ora Posiamo i casi Che non mi servono Le cose non mi servono Questo non mi serve Non mi serve Che ci fai qua Tu non mi serve Non mi affangare Uno E allora due E allora tre Fa un pulo Parà 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 Ponzi 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 Tra le tue Poi Fuck Ficciamo il giro Questa la mettiamo qui Questa li mettiamo qui Questa la mettiamo qui Questa la mettiamo qui Faccio così A po' infinita Certo che no Solo un amette E uno E due E tre Allora Ah, fappone io Non ci posso vedere Mi manca un bicchierino d'acqua De che fappone però Ti vado anche a dirmelo E mi manca Tipo Qui, ora vedo tutto Che non si muova Niente si muove, niente si muove Attenzione, colpo di scena, niente si muove Tutto è fermo Se lo facciamo così, ah non così però Vediamo un botto di energia che arriva Mi piace Mi piace Molto bene Molto bene Ora, ordunque Ordunque La 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 E la la Basta Allora Direi che ci vendiamo Uno stack di questo Tre stack di questi Ora Non so quanto carboni ci vorrà Ma Fatti Fatti qualcosa Pura Ti fai tutta sta roba Ora Chissà Lo stack di carbone Chissà che basta Quasi su serio Al lavoro Tu Infimo Infamino Quindi Detto ciò Abbiamo Trasportato un po' di cose Qui Vogliamo un po' di energia Lascia sta Che è proprio Possiamo farci Il numero dei Io direi di sì Possiamo anche farci La MK3 Io direi proprio di sì Vediamo Relay MK1 Ci vogliono Sette ossidiane Un bacco di diamanti Sì si può fare tranquillamente Lascia stare Non ce l'ho Ossidiane a qualche parte No però Con un cartello Cosa del genere Dovebbero darmela O sbaglio Sbaglio Lo so Non me lo dire Non me lo dire Lo so che sbaglio No che cacchio Lo è sta cosa 85 Questa non la darò Ossidiana Sì Ossidiana for the win Questi intanto Non puoi usare No Che fappone Che sono Ok come ho detto Ma mia Che fappone Succe Intanto ci vendiamo Nove di questi Ci prendiamo Una decina di questi Una ventina E un pezzo di vetro Ah ma no eh Pezzo di vetro No basta fare Così Ora Filosofia stona la mano Perché qui devo ancora Mettercino un workbench E facciamo Uno di questi Così Più Sette di questi Più uno di questi Antimatter Relay Ora per fare la MK2 Ci vuole Sette ossidiane E una dark matter Perfetto Una dark matter Che ci prendiamo Subitissimamente No non è quello Che volevo fare Una dark matter E ci prendiamo Anche una dread matter Così la facciamo Tutta di brutto Allora era Era una No era una Due E sette di questi Ora Presuppongo che questo sia invece Quello per la MK3 E ho indovinato infatti E qua ci mettiamo questi No qua magari raccogliamo anche Tutto bene Io c'ho il cristallo da mettere nell'MF che mi sono scordato MF Tu mettiti qua Mu Ha 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 Intanto mangiamo Anche qualcosa Ehm Ora ci facciamo A prendere Ora per fare I Collector MK3 Collector MK2 E la Glowstone La Glowstone Non ce l'ho O ce l'ho No sa che non ce l'ho Proviamo a alloccarla come fuel E vederci Vedere cosa ci dice Se sono capace A farlo Se io brucio questo Fuel Vabbè Facciamo così Dovremmo essere a posto 16 No Ci basta anche per niente Quanto vale una di questi? 1536 Se prendiamo uno stack giù di lì Un altro Metà stack lo bruciamo Ora vediamo Quante Questa non lo voglio 1 2 3 Perfetto Quello che volevo Sono 3 di questi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 E facciamoci Quanto più possiamo Di queste fappate Oh non so perché Ma io ho una voglia pazzesca di farmi una maratona di Solo 16 Beh potrebbero anche bastarmi a dire il vero Di Harry Potter Io voglio rivedere dall'1 al 7 Tutti i film di Harry Potter Mi ci vorrà tipo Tutto un giorno Dal no diciamo Dalla mattina fino alla sera Forse anche Qualcosina in più Per mattina entriamo tipo dalle 10 alle 11 Quando mi sveglio Tipo ti fai una tirata di Harry Potter Vuoi lo fareste? Quasi quasi lo farei Guarda qui già 11.000 Dettiamo La ancora c'è Guarda questa domani mattina c'è un casino di quella roba Che tu non puoi capire manco immaginaria Manco se ti fossi pendente proprio sul serio Perché solo così poco? Perché sono un fappone Se sono un fappone sono un fappone Dov'è? Prendiamoci 3 stack di sta cosa Un, due, tre Voglio fare una cosa automatizzata Della serie Io premo un bottone Oppure scrivo un comando in un computer E Mi vengono inviati Dei Scusate Dei diamanti O Una dark meter o qualcosa Ad un Energy condenser Che li trasforma in quello che voglio A seconda del codice o del nome che inserisco E da lì ho praticamente Un sistema di crafting Più o meno Secondo Quello che digito Qua non ci sono le logic pipes Ma è un progetto che mi era venuto in mente già da un po' Solo che non facendo la technique pack Più sul mio canale Non potevo attuarla Luca mi sa che da un po' che non intersino Il fappone Vediamo cosa ha fatto Brent Ha di fatto il coso Il fappone Gli lasciamo il regalino Sì dai Che vent è il fappone Tanto l'energia non è mia È quella lì È lechiria Non è vero Non è vero Dai uno stacchio i miei diamanti Dai Sono gentile no Perché con la storia che io ho messo l'ossidano nella casa Un po' ci sono rimasto male dentro Non è vero Però Sono per essere gentili Vediamo qui Cosa ha fatto Il solito layout mio Perché mi copia il layout Surya stai calmo Surya stai calmo No no Non sapete che io scherzo Mica tanto Però io scherzo Lo sapete Cos'è? Oh i namizè Fa schifo E questi episodi Stanno anche da troppo tempo Ragazzi A me mi dispiace Ah no che ha slogato Sti qua Diamanti o scherzete Non è qui No Bene C'è un cartello Andiamo a scriverli Decidetevi a traslocare Mi chissà che lo facciano davvero Che è una rottura Ci hanno quella bella villetta Decidetevi a traslocare Surreal Si sono rubati i cosi Ladri Ladri Si sono rubati i cosi Mi sono preso un paio di amanti Mi abbazzo Sì Certo Solo un paio Vi asciua Dove l'hanno mai messi Alla ricerca di collezione No non mi voglio più far collezionare L'energia Sono fapponi Sono mai dentro il castello Che parte Qui 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 c'è un cacchio Da la trala Velocco Velocco Corri Non ci sta un fapp Sali Sali Non ci sta niente Oddio Qui Che carini Mi hanno fatto La sedia No basta Che fapponi Che fapponi Quasi quasi Mi rompo i letti Mannaggia Allora Mi voglio far prendere l'energia Mi voglio far prendere Vabbè ma io Guarda che bella Guarda Che figata Assurda Mi cassa troppo Io decido No vabbè Vediamo quante energie Ha fatto in questi 20 secondi 30.000 Ma mi stai esagerando troppo Mi stai troppo pesante Zio Mi stai troppo sul pene No com'è che dice Gabbo Non mi ricordo Non mi ricordo Però Vi posso dire Che per questo episodio è tutto Io vi saluto E ciao a tutti